Prima di affrontare l'argomento occorre partire da una considerazione incontrovertibile. Non è facile decidere quali cittadini abbiano il diritto di andare a dormire e a che ora e quali cittadini, più o meno negli stessi istanti, abbiano il diritto di divertirsi e fino a che ora. Un arcano. Se poi ci si mette la politica, tutto si fa ancora più complicato, soprattutto se mina l'equilibrio interno della maggioranza. Intanto l'opposizione dal canto suo fa l'opposizione, punta il dito e sorride sotto i baffi. Oggetto del contendere di questi giorni e della riunione di stamane in comune è la movida, che a Pescara smuove sentimenti contrastanti. Perché se da un lato si può gioire della vivacità diurna e notturna acquisita dal capoluogo adriatico, dall'altro tutto questo food, drink e divertimento suona blasfemo non solo alle orecchie dell'Accademia della Crusca, ma anche al pescarese stanziale, acquartierato da sempre proprio nelle strade del Movimento. I stanze ed esigenze che sono finite diritte sul tavolo della sala giunta del comune, attorno al quale si sono accomodati il sindaco Carlo Masci, i capi gruppo di maggioranza e opposizione e i rappresentanti delle associazioni di categoria. La missione è ardua, trovare la quadra tra il piano di risanamento acustico difeso dal sindaco Masci e più o meno tollerato dalla sua maggioranza e le imprese che sul movimento di gente, cibo e bicchieri ci campano. Tutto questo prima del Consiglio Comunale del 2 maggio, che se non approverà il piano di risanamento acustico proposto, costringerà il sindaco Masci ad assumersi la responsabilità della decisione. Noi non possiamo esimerci dal prendere decisioni, perché non decidere vuol dire acuire il problema, non vuol dire risolverlo il problema. E se non decide il Consiglio Comunale, alla fine qualcuno dovrà decidere rispetto a questioni che riguardano la salute pubblica. Il piano è stato realizzato da un esperto, Noi ascoltiamo tutti anche per verificare se ci sono altre prospettive, altri strumenti. Mi sembra che nessuno si è mai tirato indietro al confronto, anzi lo vogliamo proprio il confronto, perché dal confronto escono anche nuove idee. L'importante è che le idee siano nella direzione di risolvere il problema, non di amplificarlo. Nessuno oggi può affermare che a causa dei provvedimenti del Comune di Pescara ci possa essere stata una diminuzione di presenza, perché dal aprile 2022 che il Comune di Pescara su Piazza Musi non ha emesso alcuna ordinanza relativa agli orari. Il piano di risalamento acustico che hanno formulato è inattuabile, perché contiene delle misure tragicomiche come i semafori acustici, le centraline sonore. Noi più volte abbiamo ribadito un anno fa che non è che in quel modo che risolviamo il problema. Tra l'altro abbiamo uno studio di marzo in cui fondamentalmente con la piazza semideserta i valori venivano comunque superati. Quindi un piano che fonda tutto sulla riduzione della ricettività nella zona centrale, aspetto per noi gravissimo, non fa sì che si realizzi neanche l'obiettivo che loro vogliono raggiungere. Per cui secondo noi va annullata la delibera, va probabilmente creato un patto di convivenza, noi siamo disponibili. Come si può risolvere secondo voi? Sicuramente con delle azioni che già in altre città hanno adottato, mettendo a disposizione economie e soluzioni che vanno a incidere sull'impatto acustico, cioè sulla riduzione del rumore dal basso verso l'altro. Quindi pannelli fonoassorbenti, telefonoassorbenti, opportunità di dotare i residenti con dei finanziamenti, con aiuti economici di doppie finestre, comunque dare l'opportunità a questo solo di non incidere sul riposo degli altri. Il piano in realtà non fa nulla di tutto questo, va solo a incidere su una minore presenza sul territorio, che determina anche un minor introito economico per tutte quelle imprese che hanno investito, e in più determina il fatto che a una certa ora Pescara potrebbe diventare città dormitorio.